PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. Invia Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo-gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, e previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola pcexpresspalermo. PC Express fa la differenza.